Quello che dicevo era che si parte dall'idea e poi si fa in modo che i diversi canali che vengono attivati, uso la parola canali perché l'hai usata tu, i diversi mezzi per usare il linguaggio della pubblicità che vengono in quel momento attivati non si limitino a declinare l'idea di comunicazione, un po' come si faceva una volta, integrare quell'idea significa fare in modo che usi un determinato linguaggio in funzione del canale in cui quell'idea si esprime. Va bene, li prendiamo allora dai mezzi, visto che ho usato una terminologia non corretta. No, no, hai usato una terminologia correttissima, sono io che non amo moltissimo alcune parole che secondo me non sono più attuali, nel senso che considerare come ti dicevo prima internet come un media, come un punto significa non averne compreso veramente la portata, vendere spazi pubblicitari all'interno di Facebook o vendere le persone all'interno di Facebook, cosa che si fa? Si pagano i fan, si pagano i like e quindi si vendono le persone fondamentalmente un tot al chilo. È un atteggiamento che purtroppo non farà bene a questo mestiere, che già ha i suoi bravi problemi, nel senso che la pubblicità negli ultimi anni ha perso ascendente, ha perso carisma, ha cominciato a essere un tipo di diffidenza, la pubblicità, il marketing, tutto ciò che ha a che fare con il mainstream, anche i grandi media tradizionali, anche i grandi telegiornali, hanno subito un po' questa crisi di identità, quindi la pubblicità non è che proprio goda di una salute straordinaria. Ripetere all'interno di questi canali appunto gli stessi errori che abbiamo fatto fuori da questi canali, significa a mio parere perdere un'opportunità. Per esempio noi a un certo punto siamo letteralmente impazziti per il marketing non convenzionale, ma proprio c'era un'euforia pazzesca, tu andavi a prendere dei brief e ogni due giorni c'era qualcuno che ti chiedeva un viral, c'era qualcuno che si si improvvisa, i flash mob, altra grande invenzione della pubblicità, l'ambient media, il guerriglia di marketing, cioè ci siamo attaccati con un entusiasmo a varie di attività comunicazione che non sono giuste o sbagliate, ma metterle a sistema e illudersi che in qualche modo possano rappresentare una sorta di panacea rispetto alla crisi della pubblicità tradizionale, secondo me è un po' pericoloso, perché vuol dire fondamentalmente replicare all'interno di queste nuove dinamiche alcuni errori che sono stati fatti perché si ragiona ancora in una logica di invadenza, si ragiona ancora in una logica di interruzione e non si ragiona in una logica di rilevanza, si è rilevanti quanto più si riesce a coinvolgere l'altro su un settore, su un settore, un perimetro di valori condivisi. La pubblicità può tornare a essere utile, a essere rilevante, a essere informazione, a essere anche spettacolo, prima parlavamo del carosello. Esattamente. La pubblicità si aspettava, non era mica qualcosa da cui rifuggire. Ecco, io sto cercando di capire, ed è quello di cui ho scritto, è quello che provo a fare in agenzia, è quello che provo a insegnare quando sono alla scuola politecnica del design o quando sono al Politecnico, quando mi capita di andare in aula, sto cercando di capire se riusciamo a fare una pubblicità migliore rispetto a quella che abbiamo visto negli ultimi anni. E credimi, se ne vedono in Italia, se ne vedono all'estero, di belle campagne capaci di coinvolgere in maniera importante le persone, credo che ci sia una chance per fare della pubblicità migliore, capace di diventare utile per le persone e in qualche modo essere anche scelta dalle persone. Ora, è evidente che nello spazio di un'intervista non si riesca ad analizzare in profondità le campagne di campagne che sono riuscite a creare dei veri e propri movimenti, ma pensa la campagna della bellezza autentica di Dove piuttosto che l'ultima di Levis, Levis per dirla all'americana, Go forth, insomma sono campagne toste, sono campagne belle spesse, Levis attraverso una campagna che dice Go forth, dice guardate che tutti quanti insieme forse ce la facciamo a costruire un mondo un po' migliore, certo che passa attraverso il brand, ma io preferisco un brand che parla in quel modo piuttosto che una marca che non potendo dire niente di nuovo al mondo continua a riempire gli spazi un po' a casaccio e non riuscendo a portare argomenti inediti o rilevanti per le persone. Facevi prima riferimento ai fan e ai like di Facebook, sarebbe possibile effettivamente quantificare qual è il peso di ognuno di questi e di onore dei fan piuttosto che di ogni like e quanto è utile fare questo tipo di compravendita? I listini non li conoscono, nel senso che io mi occupo di creatività, so per certo che esistono delle attività proposte dai centri media che si muovono secondo queste logiche, sono utili nella misura in cui ti serve una massa critica e quindi ragionando in termini banalmente, un po' triviali se vuoi, un po' dozzinali, se ti serve una massa critica per cominciare a far leva su un determinato messaggio, che può essere banalmente anche solo un messaggio promozionale, però se decidi di usare questi canali, usa la parola che vuoi, quella che per convenzione ci torna un po' meglio ai fini del discorso, questi possono essere ancora strumenti leciti. Sai cosa poi accade? Accade che le persone non ti restano attaccate, le persone non restano attaccate a un brand a lungo se non c'è costantemente una forma di interazione e di dialogo, se non c'è costantemente una produzione di contenuti che vi faccia sentire anche parte della storia della marca che si sta raccontando in quel momento. Ti faccio un esempio che è di qualche giorno fa, se me lo concedi. Assolutamente sì. Mina che è un brand a tutti gli effetti, che lancia il suo ultimo lavoro inaugurando la pagina ufficiale di Facebook, Mina che arriva su Facebook avrebbe fatto spontaneamente un bel tot di fan in maniera naturale, spontanea, senza grandi trucchi. Invece cosa si inventano? Si inventano un classico del media marketing, la caccia al tesoro, è veramente un evergreen e quindi un finto post o un post della redazione che cura la pagina di Facebook che dice guardate che nell'ultimo album il brano, il singolo, è scritto da un autore che non conosciamo e chiama la raccolta, chiama il popolo della rete, come dicono quelli bravi, a cercare questo fantomatico autore sconosciuto. Giusto Minzolini e il Tg1 potevano cascarci, i grandi telegiornali hanno ripreso la notizia, i grandi quotidiani, Mina alla caccia dell'autore sconosciuto su Facebook, il risultato è che in due giorni sono arrivati oltre 200 mila fan sulla pagina di Facebook attraverso una bugia. E questo la rete ci ha messo un secondo, poche ore a intercettare la fandonia, la balla, a replicare che non è questo il modo migliore per entrare all'interno di questi spazi, avevi bisogno Mina, non ne avevi bisogno su Facebook, non dovevi inventarti, insomma la rete in qualche modo ha interagito con questa balla dicendo che non si fa così. E non si fa così no, nel senso che Mina è un brand, il suo disco è un prodotto, però come vedi la logica attraverso cui ci si muove è una logica un po' goffa, è una logica anacronistica, è una logica che non ha ragion d'essere. Quindi l'advertising non soltanto come modo per attirare nuovi clienti, ma anche per mantenere l'engagement durante il rapporto azienda cliente? Sì, speriamo di sì, nel senso che in realtà quello che è accaduto a un certo punto è un equivoco abbastanza pericoloso. A un certo punto si è pensato che in qualche modo la cultura digitale, il web marketing, l'internet, potessero sancire la fine dell'advertising tradizionale o come era stato inteso fino ad allora. Non è assolutamente così, l'advertising che ci piaccia o no continua e continuerà ad avere un ruolo importante nello scenario della macroeconomia, è uno dei vettori principali dei consumi e quindi dello sviluppo economico. Casomai internet gli può insegnare una nuova grammatica e quindi sì hai ragione quando dici l'advertising anche come strumento di coinvolgimento, l'advertising anche come leva di engagement e di partecipazione, dall'altra parte guarda che anche l'internet secondo me ha da imparare e molto dall'advertising perché c'è una certa capacità di spettacolarizzare un messaggio, la grande capacità dell'advertising di mettere in scena delle storie di un certo tipo, quelli bravi lo chiamano storytelling che è un'altra di quelle parole che in questo momento va tanto di moda, ma credo che sia una delle nuove possibilità che la pubblicità ha per tornare a coinvolgere le persone, raccontare delle storie e farle sentire parte della storia della marca. Ecco io credo che ci debba essere uno scambio importante tra due mondi che solo apparentemente o solo fino a qualche tempo fa potevano essere o sembrare in conflitto e lo dico a ragion perché ho letto libri che si intitolano Advertising is Dead o sento un altro libro che si intitola La vita, life after 30 seconds, cioè la vita dopo i 30 secondi, una specie di reburning dell'advertising che deve fare a meno degli sport, sono tutta una serie di invenzioni, marketing anche questo, se vuoi possiamo passare dal marketing che sarebbe addirittura una forma di marketing, lo chiama la rivoluzione del marketing ambiguo, vuoi che il marketing tribale o il viral marketing o il marketing esperienziale, cioè non sono queste le risposte, devono stare ancora nelle idee, devono stare ancora nella creatività e come in tutte le cose in questo momento dobbiamo più che mai mettere al centro della scena le persone. Questo è un ragionamento se vuoi un po' più ampio, nel senso che la pubblicità è veramente è veramente piccola cosa, in uno scenario invece, in un panorama culturale, sociale, antropologico che è così radicalmente cambiato, bisogna tornare a mettere al centro della scena le persone, nella politica, nell'informazione e anche nella pubblicità. Se la pubblicità impara a fare questo, chi se ne frega del canale, chi se ne frega dell'internet, della televisione, delle affissioni, noi riusciamo a pensare le nostre attività di comunicazione a prescindere dal prodotto che abbiamo davanti, sforzandoci prima di tutto di dire qualcosa di interessante e coinvolgente alle persone che abbiamo di fronte, poi sapremo farlo in un 30 secondi e quindi in televisione e sapremo farlo all'interno di una pagina Facebook. Non riusciamo a fare questo, le persone se ne vanno, non hanno bisogno della pubblicità, non serve.